Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi mi sento finalmente di fare un video per ricordare John Saxon. Come spesso accade, molti celebrità che vengono a mancare fanno sì che su YouTube si sosseguano tutta una serie di ricordi, quindi di video a tema. Io ho cercato di aspettare un po', visto la notizia un po' ancora calda, quindi a mente più fredda ho pensato di ricordarlo e di parlarne un po' anche a quelle persone che lo conoscono magari solo per un film molto importante come Enter the Dragon e non per il resto della sua carriera. Poi soprattutto per le sue origini italiane, quindi non possiamo non sentirci in qualche modo legati alla sua figura. John Saxon è stato veramente un personaggio, una celebrità molto carismatica e molto importante. Il vero nome era Carmine Orrico, quindi più italiano di così. Domunque sia, insomma, spero che ci ascolterà in questa carrellata di ricordi. John Saxon, in arte appunto, ha veramente lavorato tantissimo, dagli anni 50 fino agli ultimi giorni, fino al 2012-2013, insomma, fino agli ultimi anni. Ha sempre lavorato e ha lavorato con tantissimi film, ha lavorato con grandissimi registi, sia americani e soprattutto anche in Italia, quindi conosciuto per molti film di genere. E invece è usannato per un film in particolare che in qualche modo sarà un po' anche il suo peso che si porterà per il resto della sua carriera, perché come spesso accade quando questi attori incarnano un personaggio in un film che diventa immortale, la loro carriera viene in qualche modo condizionata. E accadde pure a John Saxon, un film in questione, i tre dell'operazione Drago, Ant and the Dragon. Lui continuò sempre a dover rispondere domande continue su com'era lavorare con Bruce Lee. E quindi, questo lo racconta anche il mio conoscente, il mio amico Lorenzo De Luca, lo sceneggiatore italiano che ha curato film molto interessanti, tra cui uno interpretato da lui, che raccontava proprio che John Saxon continuamente veniva sottoposto a domande di questo tipo, finché pure si raccontava che addirittura nella notte si sognava di dover rispondere a queste domande. Iniziò la carriera con un film del 1954, dove non era addirittura accreditato, che si chiamava La ragazza del secolo. Poi continuò con titoli come, procedendo diciamo nella sua filmografia, con John Huston, addirittura Gli Inesorabili, The Unforgiven. Inizia invece la carriera in Italia, perché lui disse che il suo contratto con la Universa stava scadendo, e inizia perciò questa anche carriera, questa parentesi in Italia, con Mario Bava, nella Ragazza che sapeva troppo. Quindi grande esordio con un maestro del cinema italiano. Ritorni in America e fa Sudoveste di Sonora, di Appalusa, con Marlon Brando. Quindi si misura con un attore super carismatico, super riconosciuto. E disse che non era comunque in soggezione, perché si conoscevano già in privato, quindi non era in difficoltà della sua presenza. Tornò poi in Italia, fece con Enzo G. Castellari tre che sconvolsero il West, vado, vedo e sparo. E arrivò quindi il fatidico anno 1973 dei tre dell'Operazione Drago. Quindi in quel punto, in quel fatidico anno, la sua carriera doveva prendere un lancio clamoroso. In realtà non diventò mai protagonista dopo anche quel film. Diventò comunque un nome osannato per chi conosce il cinema in tutte le sue forme. È riconoscibilissimo. E le sue partecipazioni sono innumerevoli. Io sto soltanto ricordando quelle più note, i film più noti, i film più importanti e degni di nota. Magari ne le tralascerò anche qualcuno, probabilmente. Comunque, dopo un film di questo calibro, quindi con la presenza di Bruce Lee, continuò, per esempio nel 1976, con la legge violenta della squadra antichimine, quindi con Stelvio Massi. Tornò quindi in Italia per fare, quindi tre anni dopo, questo film. Continuò quindi tutta una serie di polizieschi, di film sulla malavita, come nel 1976, sempre Italia a mano armata, di Regia di Franco Martinelli, per arrivare poi, sempre nel 1976, lui gira tantissimo, ne fa almeno quattro. Quindi continuiamo con Napoli violenta, un altro film stupendo di Umberto Lenzi, e Mark colpisce ancora. Il secondo film di Mark il poliziotto, sempre della regia di Stelvio Massi. L'anno seguente ancora, nel 1977, fa il cinico, l'infame e il violento, sempre di Umberto Lenzi, insieme a Thomas Millian e a Maurizio Merli. Quindi è un film in cui si misura anche con due protagonisti del cinema italiano crime poliziesco. E addirittura nel 1979 fa un film con David Cronenberg, addirittura. Addirittura uno dei primi film, Fast Company. Poi nel 1979 è con Sidney Pollack, il cavaliere elettrico. Ritorna in Italia di nuovo per fare un film con l'artigiano del cinema Antonio Margheriti, Apocalypse Domani. Un film molto particolare sui reduci del Vietnam, quindi il ritorno post-traumatico e le incursioni anche del genere zombie. Un film molto particolare. Invece nell'82 collabora con Dario Argento per uno dei film più belli del maestro dell'horror italiano, Tenebre. Continua sempre sul versante dell'horror e nell'84 tocca un altro grande regista, un'altra grande collaborazione con Wes Craven per il primo Nightmare dal profondo della notte. Per arrivare poi qualche anno dopo, al 1993, e quindi fa questo film, ritorna a collaborare con Enzo G. Castellari, con cui aveva lavorato nel 68 per i 3 che sconvolse il West, e farà Jonathan degli Orsi, un film girato interamente in Russia. Film, come ricordavo prima, scritto da Lorenzo De Luca, lo sceneggiatore romano conoscitore di Bruce Lee, forse uno dei conoscitori più grandi in Italia del piccolo drago. E poi nel 94 fa Beverly Hills Cop 3, un film di John Landis, il terzo film della saga del poliziotto con Eddie Murphy. Nel 96, invece, continua con Robert Rodriguez, perché era scoppiata la mania del ripercorrere, di ricelebrare tutta una serie di attori di quel periodo, quindi con Tarantino, con la notorietà di Tarantino, di Rodriguez, venne chiamato varie volte nei loro film, tra cui appunto Dal tramonto all'alba, del 1996, di Robert Rodriguez, in cui c'era anche Tarantino. Questo poi continuò fino, come dicevo prima, fino al 2012 in vari film, in varie partecipazioni, tra cui anche, per esempio, l'episodio quello di CSI diretto da Tarantino. Insomma, John Saxon veniva celebrato sia a livello cinematografico, ma purtroppo per la sua carriera, anche e soprattutto per aver collaborato con Bruce Lee, quindi principalmente veniva e viene ricordato per quello, ma è stato un grande protagonista del cinema, attivissimo in tutti gli anni, che vanno dagli anni 50 fino al 2000. Forse è uno dei più prolifici, instancabile attore e instancabile caratterista. Lo ricorderemo sempre per quella sua espressione smargiassa, che poteva interpretare veramente qualsiasi ruolo. Forse mai il protagonista. Questo è quello che è accaduto. Siamo arrivati alla fine di questo video tributo a John Saxon, che voleva essere anche una mini guida per scoprire questo attore che ha lavorato veramente nel lungo percorso della sua carriera con tantissimi registi veramente, veramente importanti. Quindi l'invito è di riscoprire questi film e di non fossilizzarsi solamente su Enter the Dragon, ma cercare appunto anche questi altri titoli che sono altrettanto famosi, ma meno conosciuti, se parliamo appunto di John Saxon. E speriamo che insomma lo abbia apprezzato anche lui. e noi ci rivediamo. Ciao ragazzi!